Il Montevarchi ha formalizzato in questa settimana l'ingaggio del difensore Samuele Stampa, classe 95, dal Monte Catini-Valdinievole. Un innesto che consente di impinguare la rosa dopo le partenze di alcuni giovani in prestito come Gallerini e Corsi e al tempo stesso è utile a Rigucci per variare l'assetto della squadra. Da qualche settimana infatti il ruolo di laterale basso a destra è ricoperto da Niccolò Rossetti con Luca Lischi, giocatore universale, che si è adattato a coprire l'altra corsia. L'arrivo di Stampa permetterà ad almeno uno dei due esterni aquilotti di giostrare in una posizione più avanzata e congeniale. Al di là della scadenza odierna per i trasferimenti invernali dei dilettanti la società Rosso Blu fa sapere che il mercato è sempre aperto perché resta percorribile la pista degli svincolati senza dimenticare i calciatori che dal mese prossimo potrebbero scendere dalla Lega Pro. Intanto si avvicina la sfida da brividi per il Montevarchi al velodromo Attilio Pavesi di Fiorenzuola. Nel duello tra Valdarda e Valdarno i favori del pronostico vanno d'ufficio alla capolista emiliana che confida di conquistare il titolo d'inverno rintuzzando l'assalto del Rimini e dell'Imolese. Sul sito internet dei Piacentini però i ragazzi allenati da Dionisi vengono messi in guardia da rolino di marcia esterno di Essussi e compagni. Si rimarcano presentando il confronto i 17 punti conquistati in trasferta dalle Aquile a fronte dei 13 ottenuti al Gastone Briliperi. Insomma si nutre il massimo rispetto per il team di Atos Rigucci che del resto ha manifestato sin dal dopo partita con la Pionese l'intenzione di varcare l'Appennino per dare battaglia alla prima della classe. Nota finale sul meteo ripensando alle forti piogge che hanno interessato le province della bassa padana con esondazioni nel Reggiano. Secondo le previsioni domenica a Fiorenzuola d'Arda sarà una giornata soleggiata ma delle temperature rigide con minime di meno 1 e massime tra i 7 e gli 8 gradi. Di sicuro allora nonostante la meta si trovi a 268 chilometri da Montevarchi almeno un centinaio di tifosi rosso blu seguirà la squadra nell'atto finale del 2017.